Ciao ragazzi, oggi stiamo giocando con i Rainbow Friends Saremo perfetti, quindi entriamo qui dentro e devo dire ciao a tutti prima Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti Ok, tu venirei con me, dire un messaggio Ehi, non ho dovuto scappare Oh, oh, ah, quindi devono entrare tutte le persone Ok, oh, 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 ecco la ragazza, no, non ti nasconde il mio scatolo, aspetta Lo statolo Lo scatolo c'è Ok, entriamo qui Oh, la ragazza sta scappando, oh, eccoti Oh no, non ho detto il passaggio Tu, tu scappi, perché non ti voglio Vabbè, sei così, sei carina Dove siamo entrati? Siamo entrati con una boccia Una boccia, che bella Scavando la recensione Scavando Questo è capitolo 2 Ah, è capitolo 2 C'è scritto chapter 2 Ma forse ci sono pure un altro capitolo Ah, è vero, ho visto tipo Un poster In mezzo tutto Scusate, perché c'è una X? Vabbè Forse perché non si carica bene, ma Faccio così Bene Ragazzi, ho dovuto per forza premere questa X Coso E cioè, ho dovuto farci riportare qui, dai E dai, che faccenda Bruttissima Oh, ma Ah, forse perché devo Ah, quindi non devo stare lì Allora, ho capito Ehm, ma che c'è ragazza? Va tutto bene? Ehm Voglio fare conoscenza, dai Sì, voglio fare conoscenza Oh, dove è andata? Ah, è scomparsa Tipo, ho fatto di add È scomparsa qui È venuta, viene qui Quindi Somiglianza Ma quanto ci vuole? Perché Vabbè Scavano la recensione Sì 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 E poi Tutto Quindi Mo Quindi mo Siamo arrivati in lobby Ah Perché Il figliere fa così Così Ok No, siamo soltanto bimbi qui Oh, oh, oh Hai visto, hai visto, hai visto È lui che dice la chiacchiera Tipo C'era qualcuno C'era qualcuno C'era un mostro Fuggire il mosfema C'era tipo qualcuno Il ravalello rossa Che ci ha detto Dovevi venire al parco Perché i mostri Avevano cercato di uccidere È bruttissimo Quindi Sì Ok Ok T'era qui per trovare Le luci Dell'SOS Ok Oh, eccolo Eccolo Quello lì Rosso Si chiamava rosso Oh, oh Pericolo Pericolo Devo scomparsi Devo scomparsi Sarà divertente Sarà divertente Va bene Lì Oh E cosa è successo Questo rumore Oh, qualun'altro Oh, ci sono stati trovati E ora Che da qualcun'altro Spero che qualcun'altro Siamo a mettere Le scatole Eccolo Vabbè Non è che tutti quanti Sono Io vedo che tutti quanti Stanno qui Perché Non ho ancora capito Cosa devi prendere Oh Quel Esos luci Che non c'è nessuno Vabbè c'è blu Oh Oh Ma per forza blu Oh, oh Urgiamoci Wow Che bravo Oh, bravo Ok, un'altra persona Che è bravo Oh Oh Ma per Vabbè Non stavo tranquillo Che è difficile Ehi, prendila, prendila Perché Che io voglio essere Oh, qualcun'altro Oh no Oh no Oh no Aspetta Ma se non c'è Ma se non c'è Oh, stai Vabbè blu Vabbè blu che cosa vuoi tu È vero È vero blu Blu sta per entrare Ok, uno Sì, ciao, ciao blu Sì, ciao, ciao blu Vabbè 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 Calma Finalmente Oh, oh, oh Blu mi ha spaventato Vabbè Che vuole stare qui Oh, una box drive Cosa sta facendo Che sta facendo Vabbè 2, 1 Dove verrà Questa qui Un box drive Oh, 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 oh Che cavera Che cavera Ok Vabbè Ok Ditemi nei commenti E vi dico Io dove sta la mia amica Se voi dicete Dove sta la mia amica Tipo quando abbiamo fatto I video su Tokawa Ci siamo divertiti E Dillo Perché Sui commenti Così posso capire Perché Lei non ha voluto fare i video E è molto sforzato Quindi non ha voluto più Fare dei video E poi ha detto Vabbè Prossima volta Li faccio E quindi mi ho detto Vabbè E l'ho fatto l'agreement Quindi E Si posterà proprio oggi Beh Non oggi proprio la vostra giornata Ma oggi Non so quale giornata è Vabbè Oggi Chi è Che sta per vedere questo video Prima Megliore E potete dire Che giornata è oggi E ditemelo sui commenti Così Lasciate un like E Datemi tutto Nei commenti Ok Oh Lui l'ha voluto essere preso Un imbranato Vabbè Non ci ha funzionato Blu Lui l'ha voluto essere preso Vabbè 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 Lui l'ha voluto essere preso Dove Dove Deve Deve Un messaggio Vabbè Non si possono dire Ok Io non ci riesco a dirgli ma Dicemelo sui commenti Ho detto Tutte le cose che non so E vi ho detto di dire Dicetemi sui commenti Voi non Se non volete Non fa niente Quindi Tu E sarà l'ultima No Oh Oh Siamo quasi arrivati alla fine Oh mio dio Centro blu Oh Sarà per tutto Per il blu Ma Chi ha lasciato la lampadina Chi ha lasciato la lampadina Che Mu abbiamo partiti E qui E la partenza Dove tutti Non distranno Di più Veloce Ok Non ti voglio farti vedere davvero La lampadina Ma Dico Sempre Di postarla dentro Oh L'ho messa Oh Quasi È ritortato Altre tre Abbiamo finito Dai Questo Questo là Ok Ragazzi Sai quanto tempo siamo stati qui Davvero un sacco di tempo E Chi è L'ultimo Ok Qualche persone ne nascondono Ma Possono essere rubati via Ma È vero che dobbiamo Spare molto Il tempo Accetta No Io non voglio Io non accetto niente Nemmeno Il mio amico Vabbè La scatola di blu Mi fa venire Non so ma voglio un altro scatolo È vero l'inventario Sto qui Oh 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 mio dio Che bel scatolo Vabbè Vabbè Altre tre Vabbè Possiamo Vabbè Il mio si sta buttando Ok Sto arrivando dall'altra parte Li vedo Li vedo Li vedo Sapevo che sono stati rubati Dai Non so se devo Finire il gioco O Continuo Speriamo Che non faccio Un altro video di questi Perché Ci sono ancora un sacco Altri video Che devo fare Oh Li faccio sempre oggi Altri Quindi È sempre lo stesso giorno E Lo vedo Ok Oh Oh Ecco Stavo dicendo Perché non me le danno Io l'ho messo a posto Beh Come stanno gli altri Non credo che lo finiremo oggi Vabbè Non c'è più nessuno Siamo sicuri? Io non ce la faccio Ok Piano piano Perché verde è veloce Blu Il cartello Oh Pensavo che ci sono qualcun altro Vabbè ma devo fare tutto io Capito Non c'è più nessuno Non c'è più nessuno Perché blu sto prendendo qualcuno Vabbè io non ce la faccio stare Tutto da solo E non credo che non finirò oggi Ma Nel altro giorno Il laser Al posto Non ho scordato Di chiamare Più Per un piano Non sapevo che ci stava A non andare di qua Se andava qua Mi aveva Tre Non ce la faccio più Non ce la faccio più Questo gioco è l'infinito Ok L'ultima lampadina Facete drumroll tutti E E Non la dà Ok Mi metto qui perché è verde E credo che ci sta per ritornare Quindi Non lo so Se puoi trovare Per fortuna Vedo Andando Ma possiamo andare? Speriamo che li possiamo mettere dentro Perché Vabbè Quella volta Non me l'ha fatta emettere Vediamo chi sta Una persona Chi è sta una persona? Oh sono io Io vedrei questa parte Perché Lo scatolo Mi ha dovuto vedere Ecco sono io che dico C'è blu lì Al tetto Che È quello blu Vabbè Salto dai Stavolta dobbiamo prendere i cannelli Vabbè Nonno Mi sbatto C'è da lì Già vi ho messo tipo Drumroll 3 Oh 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 Ho preso Au Ehi Non male Non mi porto Questo sembra molto Un posto perfetto Non lo vivi? Sì Ma Allora Perfetto Perfetto Ok ragazzi Questo video è stato abbastanza lungo Che farò una finita E soltanto E soltanto E soltanto state nel mio channel E così Vedrete Il video Che finiamo O Volete continuare? Vabbè Continuiamo Sì Non è ancora finito Non credo È bello che è stato un po' troppo lungo Ma Un po' bruttino Vedere un po' troppo lungo Quindi Io credo che dovrò dire Un ciao a questo video E lo finiremo Più tardi O cosa E quindi Ciao a tutti quanti E ci vediamo